Un altro detenuto si è tolto la vita al carcere di Rebibbia e il 59esimo suicidio in carcere in Italia da inizio anno, sottolinea Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria. 30 anni circa italiano è stato rinvenuto in piccato stamattina nella sua cella del reparto G12 della casa circondariale di Roma Rebibbia. A nulla sono varsi i soccorsi, si tratta dell'ennesimo suicidio di un detenuto da inizio anno, cui bisogna aggiungere i sei appartenenti alle forze di Polizia Penitenziaria che si sono tolti la vita, spiega De Fazio. Il commissario straordinario all'edilizia penitenziaria è già fallito negli anni passati e di certo anche questa volta non potrà produrre effetti se non a lungo termine. Se il governo Meloni proprio voleva aggiungere un commissario straordinario ai 59 già nominati, poteva prevederne uno all'emergenza carceraria che si occupasse anche di assunzioni e di scuole di formazione, anziché tagliare irresponsabilmente la durata dei corsi per gli agenti a 60 giorni effettivi. Così ha concluso l'esponente di Wilpa.